Ministro Turismo e Cultura insieme, quanto è importante anche il lavoro del Ministro del Turismo? Io l'ho sempre detto, ho sempre detto che la cultura rappresenta uno dei nostri pilastri strategici. Può essere una grande occasione di sviluppo socio-economico in grado di incrementare il PIL, sia pur sempre nella tutela dei nostri beni e dei nostri valori, come ci dice l'articolo 9 della Costituzione. Ministro, quanto è fondamentale avere quindi un Ministro del Turismo che non ha problemi da un punto di vista serio? Oggi stiamo parlando di una cosa così importante che ha secoli di storia. Allora, facciamo una piccola lezione sulla gerarchia delle notizie e sulla notiziabilità. Questo è l'ABC del giornalismo, la notiziabilità e la gerarchia delle notizie. Allora, qua parliamo di secoli di storia, di un grande intervento che, quando io e il Sindaco ci siamo interrogati su questo intervento, non l'abbiamo affrontato a cuor leggero, perché qui si tratta di incidere in un valore prioritario di questa città, quindi occupiamoci di questo. Grazie, sottoscrivo. Questo obiettivo deve tenervi conto di sicurezza e... Grazie, grazie.